Il documentario Invisibili sta avendo una grande risposta di pubblico. Ovunque venga proiettato le sale sono piene e le persone disposte a stare in piedi o sedute per terra. Molto spesso rimangono anche fuori. Invisibili coincide quindi con un'esigenza di molte persone che in questo momento hanno a cuore la verità riguardo alle reazioni avverse da vaccino Covid-19. Anche i media mainstream stanno lentamente dando voce agli invisibili e questo è un fatto nuovo. La difficoltà invece riguarda le istituzioni che seppur debitamente invitate a molte delle proiezioni di invisibili sono quasi totalmente assenti tranne qualche raro caso. È per questo motivo che noi di Playmaster Movie cerchiamo di incentivare quella che è la richiesta delle sale comunali proprio perché riteniamo che quella delle istituzioni sia l'ultimo scoglio da superare. Per questo motivo Playmaster Movie congiuntamente con il Comitato Ascoltami e Ali Avvocati Liberi ha deciso di chiedere la protomoteca del Campidoglio a Roma. Grazie anche al sostegno di Fabrizio Santori capogruppo della Lega che ne ha fatto richiesta per conto degli organizzatori. È stata avviata quindi una procedura per la proiezione di invisibili alla sala protomoteca del Campidoglio. Una procedura che non prevedeva un consenso o un diniego da parte delle istituzioni. Eravamo quindi in attesa di parlare con il comparto tecnico per organizzare la proiezione da un punto di vista tecnico e questo ci era stato detto che sarebbe avvenuto almeno una settimana prima. E proprio allo scoccare della settimana abbiamo scoperto qualche cosa che ci ha veramente lasciato interdetti una volta di più. A seguito quindi della nostra richiesta di concessione della sala della protomoteca nella giornata di lunedì 13 febbraio, la Giunta Capitolina ci ricorda che con delibera numero 38 del 2 febbraio ha approvato una nuova disciplina per l'utilizzazione delle sale del Campidoglio. Avete sentito bene. Hanno modificato il regolamento. In particolare la sopraccitata disciplina prevede all'articolo 1,8 che l'autorizzazione all'utilizzo delle sale possa essere negata tra l'altro in presenza di tematiche delicate e oggetto di forti contrasti che attengono esclusivamente alla coscienza dei singoli per la loro incidenza sui diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Orbene le tematiche oggetto dell'evento in questione appaiono essere estremamente delicate. Se sol si considera che hanno riguardato la salute collettiva del Paese e generato forti contrapposizioni, tanto da richiedere specifici interventi legislativi sulla vaccinazione Covid-19, di recente ritenuti legittimi da parte della Corte Costituzionale. Quindi, con l'avvallo della Corte Costituzionale, certi temi non meritano di essere trattati. Un trattamento inaccettabile che ci spinge a continuare nella nostra richiesta legittima di coinvolgere le istituzioni in quello che è un tema che deve essere necessariamente riportato al centro del dibattito politico, scientifico e culturale di questo Paese. Noi di Playmaster Movie, insieme al Comitato Ascoltami e ali Avvocati Liberi, continuiamo in perterriti in quella che è una battaglia per l'informazione e per la libertà di espressione. Contro ogni tipo di censura. Per questo motivo, lunedì 13, a pochi passi dal Campidoglio, abbiamo deciso di fare ugualmente l'evento che ci eravamo proposti, invitando anche tutta la stampa mainstream e della controinformazione. È arrivato il momento di abbattere l'ultimo ostacolo che rende invisibili tutti coloro che hanno ricevuto danni da vaccino, tutti coloro che in questi anni sono stati ghettizzati, sono stati etichettati, sono stati esclusi dalla vita civile di questo Paese. Anche questa è una guerra e per combatterla abbiamo un'unica arma, la nostra coscienza, e questa non la venderemo mai.